Salve a voi che mi seguite, io sono Leo e come promesso, cioè più o meno promesso, vi faccio un video di Left 4 Dead, anche perchè lo avrei fatto comunque, quindi vabbè, facciamo stare queste cose. Sto facendo la modalità avversario, mi sembra, dove sono 4 giocatori che comandano gli infetti speciali e 4 che comandano i personaggi del gioco. Eh, io mi sono scelto gli infetti perchè mi sta piacendo davvero molto questa modalità con gli infetti. Mi dà se sì, se si muove. Non ho ancora la tossa e la tossa, è proprio una spinta. Non vi dico a fare quali sono gli infetti speciali di questo gioco che ho pensato dopo che ce l'ho preso. No, non ho mai sentito. 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 Ok. 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 Ok, abbasso un po' il volume delle cuffie. Ciao ragazzi, puoi parlare in inglese? Eh, adesso si è messo anche uno col microfono a parlare. Spero che si sta zitto, cazzo. Come ti andano a spittare questi li ammazzo tutti. Spero ci sono persi un po' di pallone di gare. Guarda, che appare che stilo è un po' di pallone di uomo. Un po' di pallone di gare. Eccolo che ha fatto che è un po' di pallone di gare. Qualcosa altra, dai. Da c'è un gare. C'è un boomer. un under e un jockey proprio trancante stancante non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta, non l'ho mai fatta ho un giacolo qua se però non teniamo questa tosse ma io uai, boomer, jockey però io non l'ho mai fatta non mi do fra vedere per entrare è un po' ballosa la cosa ma questo ti accolta siccome a queste cazzate siccome qualcuno così a boccia la cosa non mi piace di questa modalità è il tempo di rientro degli infetti speciali è sempre 20 secondi certe volte è 10 secondi però è troppo lungo allora non ce l'ha visto beh, facciamo che appena dove arriviamo alla safe run perchè se no questa modalità durerà veramente troppo da adesso quello qui dobbiamo aspettare ogni volta se hai un under e un jockey aspettare che qualcuno si separi dal gruppo in modo da riuscirlo a separare dagli altri che non si può proteggerlo però non era vede se non riesce da fare se non riesce da fare a prestare Vabbè, il mondo è qui si abbia anche cooperare con gli altri compagni, anche con gli infetti speciali, se non non si risolverà niente. Vabbè sì, qualcosa volessi risolvere, ma è più facile se fai con gli altri. Una witcher. No, no, vuoi entrare, vuoi entrare! Allora... Eccolo adesso, qua che ora l'abbiamo distrutti perchè non si possono più proteggere. Vorrei proprio poter entrare. Visto che la mia squadra ecco io non mi attacca. Ehm... E' troppo bello vincere tutti con questa modalità. Ehm... Inutile, inutile proprio. Questo qui... Troppo bella... Una bella mezzocosa di interno. Ristacomomando. Vedetelo no? Modalità che non mi piace in questo gioco è la modalità realtà che è davvero... Troppo difficile... Occhio. Vole essere essere... Sì, 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 sì. Adesso spero che quella muoia perchè se non sono cacchi. Questo gioco se gli fa volto. No, queste cose no. Ok. Sì, vabbè, abbiamo già vinto. Previsto che il video credo che sia... Troppo poco, facciamo... Ok. Ok. Bene. Non bisogna essere. Allora... Visto che questo dura troppo poco, faccio anche una botta con le persone. Cioè con le persone. Con i giocatori normali. 산 e le persone. Così io vi faccio vedere anche quando rompe le palle fare con i giocatori. Cioè con le persone, ecco. C'è questa. Questo. 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 Così la pompa è no, la pompa è stress. Perchè adesso io mi giappo subito un hunter in patch, no? Perchè sono stupido per fare i giocatori. non ci vengono con me dai cambio dai cambio e per questo che non so che c'è da entrare via ma non per cacchio non so che non riesci a muovere stiamo tirando un peggio credo che farò anche qualche commentari non in live perchè troppo in live non c'è il boomer qual è questo invece questo è me non mi piace apportarmi non si è ok dai voglio fare con la mia mazza da bello voglio anche provare e provare però un commentario anche non in live un commentario non è male anche se non saprò cosa dire beh vedrò informarmi questi giochi allora qui ci sarà sicuramente un giochi qualcosa non c'è niente oh che è quello no che cacchio ho fatto però vai via però vai via nani ti muovi a e da volta fa di tempo e per io c'è la stagione un po' di po' di po' di po' c'è la vita di rai la città giochi mi dottorato il collo tra lecce la banca roma di roma di roma di roma di giocattoli ma se mi devo curare non rompetemi i cabasisi vai splitter dove cacchio sei vai 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 ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo fare l'individuo che ci metto a conto a un parlo ma devi andare di qua e basta è basta è basta è basta vogliamo sta torcia per evitare altre witch ecco la sua devo rimettere non male unici quest'altra quasi almeno c'ho tutto carico non so che sono carico qua c'ho giochi? dove c'era? non lo faccio in cassa io ma c'è la sua non vedete sempre nel gruppo in questo gioco e non andate troppo avanti troppo non essere dietro perchè è fatale ciò che ciò che sta allacciando no ma faccio tutto io basta davvero non che l'avevo visto che c'era non ha finito le cassa vai 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 ah uno certo cacchio ciò che ci fa dai non vedo più niente cacchio c'è una torcia anche qui c'è una torcia anche qui c'è una torcia di cacchio c'è una torcia di cacchio la volevo andare a vedere la lasciate vissare ancora lasciate vissare oh ma lo trovo pedofili eh lasciate vissare cacchio ok controlla mia mazza da baseball di nuovo vero torno mazza da baseball ancora no 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 abbiamo perso vabbè non fa niente in questo modo vabbè purtroppo allora arrivederci grazie da leo arrivederci grazie di nuovo